Vittoria al Cardiopalma per la Villese nei confronti di un taverna che a pochi minuti dalla fine conduceva per 2 a 1 sullo campo dei Reggini. Una vittoria inesperata per i neroverdi di casa che cercavano addirittura i tre punti importantissimi per potersi togliere quasi definitivamente dalla zona play out. E Barresi all'inizio della partita diciamo nella nella prima frazione di gara verso il trentesimo che beffa il portiere ospite con un tiro da lontano che si infila sotto il set con appunto il portiere del taverna che non riesce a controllare a valutare bene la traiettoria. Nel finale del primo tempo però arriva anche il pareggio del taverna che con Cariati raggiunge l'1 a 1. Nel secondo tempo è la Villese che cerca di raccogliere la vittoria proiettandosi in attacco collezionando i calci d'angolo su calci d'angolo però improvvisamente è la taverna con Cosentino a passare in vantaggio con un tiro dalla lunga distanza. Un po' impreparato il portiere Sassi della Villese. Quando tutti quanti ormai pensavano che la partita potesse finire sul 2 a 1 per gli ospiti c'è un calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Un calcio di rigore tirato da Bellè che deve batterlo due volte per consentire alla squadra di casa di raggiungere il pareggio sul 2 a 2. E tutto finito neanche per sogno perché pochi istanti dopo Rosato su un calcio sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite in sacca per un 3 a 2 davvero inesperato per la Villese. A questo punto la Villese si porta a 26 punti quasi definitivamente fuori dalla zona play out mentre il taverna a 18 punti deve ancora lottare per non farsi raggiungere dalle squadre che inseguono.